Una presenza importante oggi qui all'ospedale di Pene per sottolineare, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che l'ospedale di Pene, il reparto di ortopedia è un'eccellenza. Oggi è una presenza importante perché ci è venuto a trovare veramente un amico, una persona a cui io sono molto legato, a testimoniare che effettivamente qui facciamo un lavoro importante, ma soprattutto a testimoniare un risultato. Elenito è veramente al 100%, farà secondo me un'ottima prestazione da un punto di vista fisico, si allena tanto, è una persona convinta di quello che fa tutti i giorni, ci crede tantissimo e per me è comunque una fonte anche di stima, una fonte di veramente ammirazione avere sia un amico e un paziente con cui confrontarsi e lavorare tutti i giorni, perché prima di tutto bisogna guarire grazie alla convinzione di quello che si fa durante un percorso riabilitativo, durante un post-operatorio per affrontare qualsiasi problema. Un altro personaggio importante che si aggiunge alla lista di tanti atleti che sono arrivati qui all'ospedale di Penne per curarsi. Sì, e questo è un'ulteriore conferma che stiamo lavorando, stiamo lavorando credo bene, qualche piccolo risultato si comincia a vedere e torno a ripetere, anche se siamo un po' in periferia e abbiamo qualche difficoltà nel raggiungimento di questo posto, la gente però poi, grazie insomma ai piccoli successi che otteniamo, ci viene a trovare. Per me, oltre che dottore, è l'amico Domenico, nel senso che perché comunque c'è un rapporto di vecchia data e sì, i suoi consigli e il suo supporto sono stati fondamentali perché potessi arrivare a questo traguardo in maniera eccellente. Siamo orgogliosi, oltre al modo quest'anno, di rappresentare l'Italia e l'Abruzzo. C'è il rimpianto per la nazionale che non parteciperà al mondiale, però noi siamo comunque testimoni di un movimento che esprime sempre eccellenza a livello internazionale. Noi ci auguriamo sempre di arrivare il più lontano possibile. Avendo fatto l'ultima finale mondiale un italiano, diciamo che il bis è difficile, però sicuramente possiamo puntare in alto.